Maggio 2022. Siamo un gruppo di insegnanti della Valle d'Aosta che si sono riuniti all'Istituto Tecnico Professionale Manzetti per diventare prof youtuber. Nel corso di tre incontri abbiamo affrontato le principali tematiche relative alla realizzazione di un prodotto audiovisivo di carattere didattico. Tra questi abbiamo visto l'importanza dei giusti settaggi durante la registrazione. Per esempio l'importanza di avere un'immagine a fuoco e la giusta temperatura di colore senza trascurare la parte audio che può essere registrata in due modi con e senza pulce. Occhio all'inquadratura del soggetto intervistato. Siamo stati addirittura al mare. Ah no abbiamo utilizzato un green screen. Abbiamo quasi finito. Ricordiamoci di firmare le liberatorie, di scegliere le musiche per il montaggio. No 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 adesso shhh. Silenzio che giriamo. Motore, silenzio, ciak, azione. Grazie. 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 Grazie a tutti.